con questa è tutto pronta sono già in campo sono già in campo ok vai va bene non è tutto pronto mi sono piaciuto ascolta io lo faccio oggi ciao 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.